Prima di andare in vacanza, donate è l'appello lanciato da Avis Toscana che invita i cittadini a non dimenticarsi di donare sangue e plasma prima di partire per le ferie, seguendo anche l'esempio di tanti sindaci e amministratori locali. In estate molti donatori abituali spesso non possono donare per viaggi programmati, spiega la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. Il caldo estivo può portare ad un aumento dei casi di disidratazione e il flusso di turisti può richiedere scorte maggiori, sufficienti per aiutare i pazienti cronici e per far fronte alle emergenze sanitarie. Per questo è importante che chiunque sia in salute e abbia i requisiti per farlo doni il sangue. È un gesto semplice ma che salva vite, non ci stancheremo mai di ripeterlo. La donazione estiva però ha le sue piccole regole, restare ben idratati prima e dopo la donazione, soprattutto nelle giornate calde, evitare alimenti grassi e zuccherati che possono causare debolezza o ipoglicemia, riposare bene la notte precedente e cercare di non avere impegni pressanti subito dopo la donazione.